E quindi adesso studio scienze della produzione multimediale o come lo chiama mia nonna i filmini e come tutti gli studenti d'italia anche le nostre lezioni sono diventate ufficialmente online e abbiamo dovuto ridimensionare un po le aspettative e questo significa che se mesi fa imparavamo a realizzare un lungometraggio adesso ci insegnano a fare i tiktok. Qualche giorno fa mia madre è venuta da me e mi ha chiesto ma Valeria quando le zie e le mie amiche mi chiedono cosa vuoi fare da grande io non so mai cosa rispondere cosa vuoi fare da grande e l'ho detto la copywriter e lei mi ha detto ah e l'ho detto la copywriter è la professionista che si occupa della parte scritta e della parte linguistica delle pubblicità. Ora mia madre non sa l'inglese quindi non riesce a dire copywriter allora ho detto vabbè di alle zie e alle tue amiche che voglio fare la comica hai imparato a dire copywriter ho uno strano rapporto con i bambini e il fatto è che sono troppo onesta cioè non potrei mai guardare un bambino negli occhi e dirgli che Babbo Natale non esiste voglio dire Babbo Natale esiste Babbo Natale esiste il mondo è pieno di vecchi di mezz'età con la pancia e la barba che non vedono allora di riempirti i regali solo che solitamente vogliono qualcosa in cambio è stato strano scoprire che Babbo Natale non esiste avevo nove anni ed ero la più grande tra i miei cugini e un Natale un mio zio mi prende da parte mi porta in una stanza e mi dice beh quest'anno Babbo Natale lo fai tu? e io l'ho fatto ma mi sono anche fatto un sacco di domande e mi sono data due possibili risposte o Babbo Natale non esisteva o tutto quel tempo ero io Babbo Natale e allora mi chiedevo mio Dio ma com'è possibile fare qualcosa e il giorno dopo non ricordarti nulla di quello che hai fatto? poi a 16 anni ho iniziato a bere e ho capito capita poi a 17 anni ho iniziato a fumare e pensavo magari siamo tutti Babbo Natale non mi ha sconvolto tantissimo scoprire che Babbo Natale non esiste mi ha sconvolto tantissimo scoprire che i fascisti esistono davvero voglio dire ok abbiamo tutti letto di loro nei libri di storie in quinta elementare ma abbiamo letto anche di Gengis Khan e continuiamo a pensare che sia un personaggio di Tekken 3 quindi la prima volta che ho scoperto l'esistenza dei fascisti avevo 11 anni ed ero al mare con mia madre e una mia amichetta mia coetanea arriviamo in spiaggia io e la mia amichetta entriamo in acqua usciamo dall'acqua e mia madre non era sotto il nostro ombrellone tranquilli in questa storia i fascisti arrivano dopo mia madre sta bene mia madre è la classica persona che parla anche coi sassi quindi in poco tempo ci siamo ritrovati sotto l'ombellone di questa signora sconosciuta molto simpatica che aveva una figlia sui 25-30 anni e io e la mia amichetta abbiamo iniziato a parlare con questa ragazza se non che a un certo punto questa ragazza ha un'illuminazione e ci dice ehi devo farvi vedere una cosa ed estrae una foto in bianco e nero di un tizio molto buffo che scopro essere il duce e ci dice io sono fascista e nella mia mente di undicenne quello che mi è venuto distinto fare è stato girarmi a vedere la reazione della madre perché voglio dire mia madre mi aveva sgridato un sacco una volta che avevo detto una parolaccia per sbaglio al supermercato quindi figurati se per chi non pensavo che il fascismo fosse illegale pensavo fosse maleducazione facciamo un salto temporale andiamo all'anno scorso sono a matrimonio mi ritrovo al tavolo coi fascisti però i ravioli sono arrivati in orario non mi sono lamentata colpa mia sono al tavolo coi fascisti ma auguratamente questa ragazza mi prende in simpatia e con la sicurezza di chi ti sta consegnando la pillola rossa mi dice ma lo sai che se vince la sinistra danno tutti gli orfani ai gay no no vi do un momento per metabolizzare l'informazione io mi sono immaginata questo mondo parallelo in cui tutti gli orfani del mondo vengono consegnati a tutti gli omosessuali del mondo mi sono immaginata non lo so questo ragazzo che viene svegliato la mattina dal citoforo va alla porta apre del postino che dice buongiorno signor Saddi questo è il suo bielorusso di tre anni no guardi ci deve essere un errore io non voglio figli pochi cazzi signor Saddi l'ho vista ascoltare Yabba lei ora questo bambino se lo prende grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.